Assumerà l'incarico di Vice-Ministro Mondo Cirielli, il Ministro degli Interni, il Ministro della Giustizia ha tre o tre, assumerà poi le funzioni di Vice-Ministro, Andrea Ministro della Difesa ha due sottosegretari che sono il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha funzioni di Vice-Ministro, Lucia Albano, il Ministro dello Sviluppo Economico ha tre l'incarico di Vice-Ministro Fausta Bergamotto, il Ministro assumerà le funzioni di Vice-Ministro e Claudia anche lei assumerà le funzioni di Vice-Ministro, il Ministero della Salute, il Ministro dei rapporti con il Parlamento, avrà la delega per intenderci che era del Ministro su proposta del Ministro Nordio, poi io ovviamente ho ringraziato finora il Ministro degli Interni Matteo Piantenosi, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Ministro della Salute Orazio Schillaci, ovviamente pavaglio al Ministro Nordio, che però nei giorni scorsi il nostro Ministro di Viste nella norma del Ministro Cartabia i giorni scorsi, il Ministro Piantenosi, che poi quindi, dicevo il Ministro Piantenosi, poi su questo ovviamente il Ministro, guarda il Ministro Schillaci, il Ministro della Situazione, che è il Ministro Schillaci. Grazie Ministro Nordio, la parola al Ministro. Grazie Ministro Piantenosi, la parola al Ministro. Ho detto dal Primo Ministro, questo obbligo è condiviso anche con il Primo Ministro. Grazie anche al Ministro Schillaci. Buonasera, mi ricollego al Ministro Schillaci, Ministro, quindi c'è una decrescita. Se con i giorni risponderà poi il Ministro Schillaci, dicevano che il Ministro Orazio Schillaci non è il Ministro Schillaci, immagino voglia aggiungere qualcosa. Oggi ovviamente da Ministro. Riguardo agli altri ministri, siamo sempre più in difficoltà con il Ministro Piantenosi, del Ministro Nordio, ma...